L'Italia riparta con gradualità e cautela e soprattutto sulla base di parametri che terranno conto regione per regione dell'indice di contagio. A dichiararlo il presidente della provincia Michele Estrianese che fa parte della task force con regioni, province e comuni che prevedono un confronto tra governo e rappresentanti degli enti locali in vista della fase 2 per superare l'emergenza sanitaria da covid-19. Un confronto faccia a faccia con il premier Conte, ministri Bocce e Speranza e che si è concluso nella tarda serata di ieri. Il 4 maggio, riferisce Estrianese all'esito dell'incontro, ripartono quasi certamente i cantieri pubblici e privati e tutte le attività commerciali connesse. Parte l'industria e l'indotto dell'automotive e dunque anche le auto rivendite, i produttori e i commercianti di pezzi di ricambio. Si inizia anche con il manufatturiero e il connesso commercio all'ingrosso, riparte anche il settore della moda. Insomma, segnali di ripresa con l'attuazione però di tutti i protocolli di sicurezza. La fase 2, ricorda Estrianese, sarà monitorata continuamente e se dovessero peggiorare alcuni indicatori di tipo sanitario potranno essere imposte restrizioni. Come presidente della provincia di Salerno, Michele Estrianese ha evidenziato la necessità di consentire la ripartenza del settore turistico anche in vista dell'arrivo della bella stagione. È fondamentale, dice il presidente della provincia di Salerno, sostenere le attività turistiche soprattutto in una bellissima provincia come la nostra. Questo sarà il tema principale della discussione avviata la fase 2 e quindi dal 4 maggio in poi siamo ancora in tempo per salvare buona parte della stagione turistica.